Prima di continuare, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Grazie. Francesca Fagnani, giornalista e scrittrice, apre il sipario sulla sua storia d'amore con Enrico Mentana, il direttore di Tg La Sette. Una relazione che si dipana dal 2013, ormai un decennio di complicità. Tuttavia, la storia d'amore non è iniziata con un colpo di fulmine immediato. Francesca svela che si sono incontrati grazie ad amici comuni durante una vacanza a Cortina, in montagna. Ecco dove Mentana ha iniziato un corteggiamento che ha saputo coltivare con pazienza e dedizione per oltre un anno e mezzo. Non è stata la differenza d'età a inibire Francesca all'inizio, ma la mancanza di quel classico colpo di fulmine. Rivela che, per lei, alcune persone crescono dentro di te nel tempo. Una prospettiva romantica che rompe gli schemi convenzionali dell'amore. Francesca non è solo una figura televisiva di spicco, ma anche una scrittrice impegnata. Attualmente, si sta dedicando a scrivere un libro inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, in uscita a marzo. La sua passione per la scrittura si estende anche al futuro, avendo già firmato per un secondo libro sulla stessa tematica. Il suo approccio alla vita è multifacetato e senza limiti. Mentre l'impegno televisivo la soddisfa, Francesca Fagnani è determinata a non fossilizzarsi su una sola cosa. La sua filosofia è chiara, non voglio scegliere. Finché sono cose nelle mie corde, io voglio fare tutto. Un'affermazione che risuona con una determinazione e un desiderio di esplorare tutte le sfaccettature della vita e delle sue passioni.